Sarà davvero Repulisti? È l'auspicio di tutti dopo l'ultima fallimentare stagione. I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi allenatore DS, o meglio DS e allenatore. E già perché si partirebbe col piede sbagliato se venisse scelto prima il tecnico, poi il direttore. La figura dell'allenatore deve essere diretta a emanazione del direttore sportivo, se la logica delle cose venisse rispettata. Dieci giorni fa proprio al nostro sito Sebastiani aveva dichiarato Chiedo scusa alla città, ho sbagliato tutto, il declino è iniziato a gennaio 2020, quando ho accettato le dimissioni di Luciano Zauri. Avrei dovuto trattenerlo e mandare via altre figure. Sarei dovuto entrare a gamba tesa su alcune situazioni e invece non l'ho fatto. Ci sarà un Repulisti, bisogna azzerare tutto. Posso solo dire che nella prossima stagione ci sarà un solo direttore. Il futuro di Grassadonia, del tandem Bocchetti-Repetto, è ancora tutto da scrivere. Nei giorni scorsi il presidente del Delfino è stato a cena con il tecnico salernitano Antonio Bocchetti. Entro una settimana, dieci giorni sapremo, seppur dolorosa, lo ribadiamo, la retrocessione deve rappresentare un'opportunità. Ripartendo però da basi credibili, chiarezza di idee e programmi, soprattutto facce nuove, per invertire una deriva molto pericolosa. Grazie.